Se sulle auto i sistemi di sicurezza per l'assistenza alla guida sono ormai d'uso comune, sulle moto non è proprio così e a sfatare un tabù ci pensa Piaggio con il nuovo MP3. Sì, avete capito bene, dalle quattro ruote al più conosciuto dei tre ruote il passo è breve, sulle auto si chiamano ADAS, mentre su Piaggio MP3 troviamo dispositivi di tipo ARAS, ma il concetto è lo stesso e sono studiati specificatamente per moto e scooter. Con questa novità il primo scooter a tre ruote al mondo continua a rivoluzionare la mobilità urbana, servendosi della tecnologia. I nuovi ARAS di MP3 infatti si basano su una innovativa piattaforma di assistenza alla guida. Tale tecnologia si aggiunge ad uno schermo a colori da 7 pollici, al sistema keyless per accendere lo scooter senza chiave e alla connettività con navigazione. Inoltre sul modello 530 HPE Exclusive è presente anche il cruise control e la funzione di retromarcia con videocamera. In gamma ci sono tre versioni, tutte equipaggiate con motori High Performance, il 400, il 400 Sport e il 530 Exclusive. Sul fronte del design il frontale risulta più ampio rispetto al passato, con un nuovo gruppo ottico full LED più imponente sportivo, mentre al posteriore le linee tese corrono verso il gruppo ottico. Per averlo si può prenotare anche online, scegliendo versione, colore e concessionario dove effettuare il ritiro. Se prima era lo scooter più sicuro, grazie alle tre ruote sempre in presa su asfalto, strade irregolari come pavè, rotaie del tram o altri handicap ai quali siamo abituati o solo rese viscide dalla pioggia, ora, con l'aiuto della tecnologia, lo è ancor di più, continuando ad essere un precursore del segmento.